Ciao a tutti, nuovo appuntamento, nuovo make-up tutorial. Questa volta ci spostiamo di scena ed ecco vi riproposto un look delicato e sofisticato, ma allo stesso tempo semplice ed impatto. Occhi con un trucco leggero, labbra voluminose per riprendere lo stile di Audrey Hepburn. Un tocco di classe per ottenere un look sempre perfetto. Applico una base beige su tutta la palpebra. Applico un color dorato su tutta la palpebra mobile. Da metà occhio in poi applico questo color oro un po' più scuro di quello precedentemente applicato. Applico un marrone più scuro nella piega. Prendo il colore più chiaro e lo stendo sotto il sopracciglio. Con una matita marrone vado a segnare una sottile riga di eyeliner. Sfumo poi questa matita. Vorrei applicare una matita azzurra al distotto del rimo inferiore. Applico un abbondante mascara nero. Stendo un fondotinto. applico poi il correttore. fisso il tutto con una cipria. applico un blush in crema. al di sopra stendo un blush compatto. vado a ridisegnare le mie sopracciglia. stendo un matitone super brillante sulle labbra. vorrei applicare un po' di gloss solo al centro delle labbra. fisso il tutto con una cipria. fisso il tutto con una cipria. fisso il tutto con una cipria.